Buonasera, grazie a tutti per essere qui, inizia la lunga notte del blues, grazie alla vostra presenza e grazie ai signori dell'Ades che ci hanno dato questa opportunità. Ci dovrebbero un plauso. Allora, stasera abbiamo tre chitavisti sul palco che suoneranno prima il loro set e poi suoneranno tutti insieme. Siamo onoratissimi di avere due grandi guitare. Passo subito a presentarvi ai musicisti. Cominciamo dal batterista. Lui ha studiato con il maestro Antonio Romano, collaborazioni con Enzo Caponetto del Blue Staff, Massimo Furio, grande Gennaro Porcelli e Peppo Blues. Ama suonare lo shuffle, curare il suono, il groove e le dinamiche. Si definisce un batterista al servizio della band. Grande persona, grande musicista, di grande umiltà. Ho il piacere di avere sul palco dell'Ades per la lunga notte del blues. Alla batteria Peppe Parisi. Al basso elettrico. Bassista e compositore di grande valore. Appassionato di tutta la musica, lui suona di tutto. Basta che gli mettete il basso in mano e gli date una bustella corretta per l'ombificatore. Qua sta a posto. Ha un grande suono rock blues. È inconfondibile il suo suono. Dopo lo farei sentire con calma. Al basso elettrico, Francesco Fiordilisi. Allora, primo chitarrista che si esibirà stasera, che avrà il banco a sua disposizione. Lui è un giovane talento emergente del programma musicale napoletano e non solo napoletano. Appassionato di musica afroamericana, ha studiato chitarra e jazz con Alessandro Castiglione e ha l'attivo una lunga gavetta di serate nei club di tutta Italia. Ho il piacere di presentarvi stasera per la lunga notte del blues qui all'Ades alla chitarra e alla voce Francesco Romano. Grazie. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Allora, e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.